Messaggio della Beata Vergine Maria. Alla sua amata figlia Luz de Maria. 5 luglio 2013. Amatissimi figli del mio cuore immacolato. Vi invito a restare vigili, a considerare con estrema attenzione questo istante, non è come gli altri vissuti dall'umanità, questo è l'istante degli istanti, quello che precede la seconda venuta di mio figlio. Io, come madre di tutta l'umanità, tendo la mia mano a chiunque voglia prenderla e mi permetta di condurlo da mio figlio. Intercedo presso mio figlio, non dimenticatelo. Desidero che siate consapevoli, estremamente consapevoli dell'istante, che state vivendo, dell'operare e dell'agire di ognuno di voi. Figli miei, siate consapevoli della serietà della mia chiamata. Ogni vostro atto e ogni vostra opera si ripercuotono su tutto il creato. Non pensate che le vostre azioni siano isolate, poiché esse si diffondono su tutta la creazione. Miei amati figli. I segni dell'istante presente sono evidenti e precedono ciò che accadrà all'ultimo momento. Non crediate che, poiché non vivete gli eventi di persona, essi non possano toccarvi. Ogni creatura, ogni paese soffrirà, ogni cosa sarà purificata e da questa purificazione si ergerà il popolo fedele, le cui anime il mio cuore desidera ardentemente guardare, il maggior numero di anime. Non mi stancherò mai di chiamarvi, le mie chiamate sono costanti e incessanti perché, come mio figlio, ho una grande sette di anime che si consacrino a lui. Miei amati, la strada non sarà sempre facile, incontrerete le spine sul vostro cammino, ma dovrete offrirle come atto di espiazione per coloro che rifiutano di avvicinarsi a mio figlio. Amo ognuno di voi, mio figlio si è sacrificato per tutta l'umanità, non solo per pochi ma per tutti, e per coloro che lo riconoscono come loro Signore e Dio. Tutti quelli che riprendono il vero cammino che mio figlio ha indicato a loro e al quale io vi chiamo, tutti quelli che vivono con serietà una vita sincera a somiglianza di mio figlio, tutti quelli che rispondono alle chiamate di mio figlio con i sacramenti, i comandamenti, tutti quelli che lo ricevono in spirito e verità nel suo corpo e il suo sangue, saranno salvati. Tutto quelli che lo custodiscono nel proprio cuore e lo amano profondamente, senza commettere atti contrari alla volontà di mio figlio, saranno salvati. Il mio cuore arde costantemente come una fiamma d'amore. Sembrate così vicini a raggiungere la vittoria spirituale e, tuttavia, fate passi falsi che vi fanno indietreggiare verso il punto in cui si trova il nemico dell'anima. Cari figli, in quest'istante è in atto una guerra spirituale, che non siete in grado di percepire. Il nemico vuole conquistare le anime fragili e deboli, per questo vi esorto a prendere la mia mano, poiché come madre, che intercede per tutta l'umanità, voglio portarvi da mio figlio. Tanti eventi si stanno avvicinando rapidamente e l'umanità continua a comportarsi in modo incoerente, arenata in un'irrealtà, che il nemico è riuscito a creare affinché voi vi abbandoniate con fiducia alle banalità e ai piaceri mondani. Ancora una volta insisto con la mia chiamata materna e amorosa, poiché in questo istante tanto serio e grave in cui vi trovate ogni atto si moltiplica e ognuno di questi atti dovrebbe essere compiuto in nome dell'amore di mio figlio, non per l'orgoglio umano, che lo abbandisce dal cuore dell'uomo. Il cattivo operare e le cattive azioni rafforzano il male. E lo aiutano a diffondersi e a vagare come una peste per bussare a tutti i cuori degli uomini e impedir loro di raggiungere la salvezza. La terra è benedetta, fa scorrere latte e miele per quelli che si trovano sul giusto cammino, per quelli che lottano costantemente per rimanere accanto a mio figlio, per quelli che in questo momento decidono di lasciare le cose terrene e di consacrarsi per ricongiungersi al mio divino figlio. Amati, la terra ha sete d'amore ed è stata costantemente distrutta dall'uomo senza coscienza, per questo lei rivendica il suo posto, chiede all'uomo di tornare a cullarla con amore e detesta di essere sottomessa all'umanità di oggi. La terra si angustia e continuerà a tremare fino a quando ogni creatura umana, per il costante tremare della terra, eleverà lo sguardo verso l'alto implorando misericordia. Mie amati. L'umanità non ha solo disprezzato mio figlio, l'ha anche esiliato e sfidato e, mio figlio, con il suo grande amore e la sua grande misericordia, le ha dato in cambio amore e benedizione, ma l'uomo ha dimenticato che la divina giustizia è allo stesso tempo misericordia. Per questo l'avvertimento sta per compiersi di fronti a un uomo, che non si è preparato correttamente, a un uomo, che trascura le mie chiamate e disprezza i miei inviati. Ciò accade da sempre e quest'istante non fa eccezione. State allerta, io vi amo. Vi accolgo nel mio grembo materno come l'arca della nuova alleanza affinché vi riuniate a mio figlio e, in questo modo, con fede rafforzata dal divino amore, siate in grado di affrontare con coraggio e fermezza la tribolazione, che incombe sul genere umano. Vi amo, ascoltate la mia chiamata vi benedico, ascoltate la mia chiamata.